e ragazzi in questo ride ho beccato questo duca zucca con non so se scudo mentale oppure c'è un cavaliere nascosto però vedo qui uno scudo costante forse di livello 5 non ne ho veramente idea io non ho ancora piazzato truppe come vedete nulla e non riesco a capire perché questa zucca è costantemente protetta forse un bug forse lo scudo mentale è appunto buggato e permette di tenerlo continuamente proviamo io mando i miei eroi vediamo che succede la zucca è morta tranquillamente senza fare troppe storie detto questo ragazzi non so come funzioni questo emblema se voi lo avete completato gentilmente lasciatemelo scritto in un commento fatemi capire come funziona per vedere se è soltanto un bug momentaneo oppure è proprio la serie di emblemi buggata spero questo video possa essere utile alla prossima